Il Big Bang Company non poteva che essere un successo. Una grande folla eterogenea ha avarcato i cancelli per assistere al grande spettacolo, reso ancora più coinvolgente dall'imponente palco che per la quarta serata ha visto esibirsi artisti di livello conosciuti a tutte le platee. Importante è il servizio d'ordine che ha visto polizia, carabinieri, security, protezione civile e altri impegnati per controllare che tutto fosse in ordine e non passassero al varco oggetti vietati. Chi era sul palco ha saputo come al solito coinvolgere la folla e far divertire a tempo di musica e gadget. La locazione del palco sulla spiaggia non più accentrato ha permesso che la viabilità sottomarina potesse continuare a scorrere normalmente, al contrario degli anni scorsi che vedevano il palco in Piazza Italia costituire un problema per la circolazione. Idea centrata quindi ci si augura che l'evento, ben organizzato bisogna dire, possa diventare un appuntamento estivo anche per gli anni a venire. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.